Ciao sono Ambra e benvenuti a tutti con questo nuovo video delle cose di agosto Visto che ho tantissimi nuovi vestiti da farvi vedere prima che finisca l'estate e voi non siate più interessate alla cosa Direi di partire subito Il primo vestito che voglio mostrarvi per l'appunto è quello che sto indossando in questo momento L'ho scovato sul sito Rosgal e tanti di voi se ne sono innamorate dopo che ho postato una foto di lui Su 21 Buttons dove sono sbarcata da pochissimo e anche su Instagram Ebbene proviene da questo sito e veniva poco più di 20 euro È un vestito caratterizzato da questa stampa florale che trovo davvero estiva Ed è un vestito che poi prosegue appena sopra il ginocchio e ha una cintura che può essere stretta in vita per enfatizzare le curve della figura Ho l'aiutante perché come sapete ho avuto un intervento al piede, mi ero tranciata un tendine Hashtag tranciarsi il tendine in agosto o hashtag agosto con la stecca come preferite E rideva perché effettivamente la taglia di questo vestito che è una S Ovvero la taglia che prendo sempre io Anche questa ad esempio è una S Sono le taglie che utilizzo io nei vestiti Beh diciamo che in questo che proviene sempre da Rosgal Non è molto incoraggiante La fantasia mi piace davvero tanto Il bianco è uno dei miei colori preferiti in estate Con questa stampa florale rosa Poi è davvero un abitino potenzialmente molto d'impatto Poi come non potevo provare questi diavolo di reggiseni appiccicosi autoadesivi Che una volta andati a tirare i laccetti vanno a stringere il seno e a fare l'effetto push up Al contempo anche a schermare qualora andiate a indossare un vestito magari scollato sulla schiena Dove sta male un qualsiasi tipo di reggiseno anche quelli più discreti come una fascia Non l'ho ancora provato O meglio l'ho provato giusto per usarlo Posso dire che sembra riutilizzabile dato che è molto appiccicoso Però non l'ho provato Non l'ho testato per una giornata intera Sicuramente non è la marca più famosa Questa di Rosgal Però mi sembra un reggiseno come un altro ecco Ancora Rosgal In questo caso ho deciso di prendere questa borsettina Chi di voi avrà visto i miei video sulle borse Sa un attimo quali sono i miei gusti Infatti a borse si renderà conto che questa non rispecchia molto i miei gusti per l'appunto Devo dire che in realtà mi è piaciuta per l'estate Anche perché ha la tracollina, è comoda, piccola, divertente Perché comunque questa fantasia nera e colorata non è male Se abbinata a un outfit magari un po' particolare In complesso devo dire che mi piace La linea è abbastanza classica Questa fantasia smorza Non mi è assolutamente dispiaciuta questa borsetta E per finire con Rosgal Un pezzo che mi è piaciuto davvero parecchio Ovvero questa camicetta nera Che come vedete è molto semplice È di un tessuto semi trasparente Elegantissimo devo dire Tra l'altro l'ho rifinita davvero molto molto bene Perfetto il tessuto di questa camicia Ero molto curiosa di poter provare la qualità di Rosgal Un sito su cui non avevo mai ordinato nulla Devo dire che al momento per gli acquisti che ho fatto Sono veramente soddisfatta Vado con altre cose random Ve le faccio vedere senza specificare il sito Se lo ricordo poi metterò un'info box Ma questi capi sono talmente basici E talmente di moda, di tendenza Che li trovate un po' in qualsiasi negozio di avvegliamento Allora il primo è un body bianco La lavorazione è una delle mie preferite Soprattutto per il periodo estivo Ovvero in costine E poi abbiamo questa scollatura davvero molto profonda Con anelli Dentro la quale passano questi lacci Che potevate posizionare voi Io l'ho messo in modo intrecciato Devo dire che è un capo basico Molto bello Soprattutto d'effetto D'estate con un paio di shorts Una minigonna in jeans È la morte sua Anche l'altro è un body In questo caso a manica lunga In questo cotone è davvero molto semplice Con scollo a barca Questo è uno dei capi Che vi consiglio sempre di acquistare Comunque anche nel periodo dei saldi Trovate questi capi basici Che poi vanno bene un po' tutto l'anno Anche nelle mezze stagioni Con sopra magari un cardigan O una felpa Una giacchina in pelle o in jeans È uno di quei capi Che vale la pena avere Nel proprio armadio Poi dello stesso sito Visto che veniva veramente pochissimo Il colore mi era piaciuto E anche la forma della borsetta in sé Ho preso questa tracolla Che in questi giorni di stecca in agosto Ho un piede steccato Non so se ve l'ho già detto Sì forse prima Mi tornano molto utili Perché devo tenere le stampelle E quindi metto la tracolla dietro Sperando che non mi sbilanci E vado come una scheggia Cioè potrei fare la corsa ostacoli Praticamente E questa è una tracollina comodissima Mi è piaciuta questa borsa È la semplicità fatta a persona Sapete che io sulle borse O ci spendo delle cifre imbarazzanti E prepotenti Oppure ci spendo veramente nulla E devo dire che è molto carina È rifinita bene Ha questa taschina interna È morbida Ok a questo punto direi di fare Un piccolo break Perché ci tengo a far vedere Delle cosine che ho preso Su Banggood Nella fattispecie Ho preso giusto Qualche accessorio Anche se come sapete Io non sono proprio Un amante degli accessori O meglio Mi piacciono Non ne sono attratta Ma poi mi rendo conto Che li indosso davvero poco Vi faccio vedere Questi anelli Che sono piaciuti A tantissime di voi Su 21 Buttons No non è vero Non mi considero nessuno Su 21 Buttons Anse andate a seguirmi Sono Ambrose Sebastice Scaltra Anche là Comunque sono questa serie Di anelli Molto molto carini Con questa finta pietra In turchese Che fa subito estate Devo dire che sono Veramente carini Sempre su Banggood Una cavigliera Ho la passione Per le cavigliere Trovo sia un oggetto Sempre Fine Particolare Anche un po' sexy Se vogliamo E questa è bellissima Perché è in oro Questa catenella Davvero ben fatta Molto solida E questo cuoricino Mi è piaciuta Davvero parecchio Sempre su Banggood Ho preso questa Dovrebbe riprodurre Una pietra In quarzo Onice È la pietra Che usano Per fare le domande Non la userò Con questo senso Assolutamente L'ho presa come Appunto Ciondolo Così Di pura moda Poi come se non avessi Abbastanza Un laccetto Un choker Insomma Quelli che si possono Attorcigliare al collo E date voi La lunghezza La forma che preferite Io di solito Con questi faccio Due giri Poi chiudo Con il fiocchetto E Gatto Oliver Può accompagnare Solo Sempre preso Da Banggood Che è una figata assurda È un raccoglitore In legno La cosa più simpatica È che andate A comporlo Come se fosse Un puzzle In legno Poi si ferma Con degli elastici È reperibile In diverse fantasie All'inizio L'avevo pensato Per la make up station Però ovviamente Come vedete dietro È tutta bianca E trasparente Quindi ho deciso Che questo organizzatore Che mi sono costruita io Con tanto divertimento E sudore No non è vero Ma lo sono fatta costruire Da un mio amico Non ero capace Non ero in grado Ho perso la pazienza Dopo tre minuti Questo organizzatore Ho deciso Visto che si presta molto Di metterlo poi Sulla scrivania E inserire tutte le cose Per lo scrapbooking Gli altri due organizzatori Invece sono questi Come vedete C'è questo Molto semplice Per contenere I rossetti Devo dire Che ne ho presi pochi Perché non mi sono bastati In realtà E questo Che invece Ha due piani È pieno di scomparti Davvero interessanti Qua si può anche Alzare E vedete Che ho posizionato I miei fondotinta Le cose che voglio Sottomano Con più frequenza E sotto Invece abbiamo Questo altro mobile Con i cassettini Estraibili Dove ho messo Le cose appunto Che uso di più Solidi Ben fatti Sono rimasta Molto contenta Veniamo invece a Guess Perché ho preso Un vestito bellissimo Chissà quando riuscirò Ad utilizzarlo Questo era scontato Al 50 Veramente meraviglioso Questo vestito In pieno Stile Guess E ha questa lavorazione Sul davanti Tutta in pizzo E sotto invece Abbiamo il tubino Vero e proprio Che è in questo materiale Estremamente elastico Fasciante Molto molto bello Sulla schiena Abbiamo il solito Pizzo riportato Fino ad altezza Del gluteo Appunto Sì Dall'inizio Del sedere Molto bello Questo E ho comprato Ad abbinare a lui Anche dei sandali Chiari Arrivano i sandali E è andato a prenderli Intanto vi faccio vedere Quest'altro vestito Che mi ha lasciato A bocca aperta Devo dire che È veramente carinissimo Forse più dal vivo Che non online Sul sito Questo proviene Da Romwey E guardate Che popò Di abitino Stupendo Devo dire Devo dire Che è veramente Stupendo Era in primo piano Sul sito Quindi è stato facile Dire no Lo voglio Sta molto bene Anche indossato Ora però Avvi ragioni Non ho potuto Fare un try on O video In questo caso Perché mi sarei uccisa Ogni tre minuti Con il piede Fasciato Eccetera È un vero peccato Perché indossato Merita ancora di più Guardate Guardate quanta luce Che emana Guardate Com'è rifinito bene Tra l'altro Devo dire che Sono sempre molto scettica Io per quanto riguarda Questi siti E soprattutto Questi prezzi Però diamine Ci sono dei negozi Dove costa tantissimo La roba Abbiamo la stessa qualità E questa cosa Mi sta veramente antipatica Ottimo Ottimo Materiale È carino Soprattutto Ben rifinito Veste bene Molto bella Anche la scelta Di questo tessuto Con questi Giochi di paillettes Meraviglioso il colore Poi lo sapete Che ve lo sto a dire Ottimo Veramente Questo Per una cerimonia Soprattutto Azzeccato Davvero Ecco Nel frattempo Sono arrivati Anche i sandali di gas Che Sono questi Carinissimi Li potrò mettere Non so Quando potrò Rimettere un tacco My goodness Comunque Mi sono piaciuti Davvero parecchio Indossati Stanno da dio Se li trovate ancora In sconto Vi dico di andarli Quanto meno A provarli Perché secondo me Hanno una linea Meravigliosa Un tacco Giusto Dovrebbe essere un 10 Ma hanno un comfort Estremo Il piede Rimane bello Chiuso Sono sia eleganti Ma anche casual Veramente bellissimi Siamo addirittura D'arrivo Con queste cose Di agosto No Ho già perso Il verso Allora Questo è un vestito Perché proprio a me Allora Questo vestito È molto bello L'ho indossato Così per provarlo E poi sono rientrata Subito Negli abiti Tradizionali Ora io vi lascio L'invito A magari guardarvelo Sul sito Addosso alla modella Per capire bene Vi lascio il link Poi qua sotto Perché così Secondo me Capirete poco È un tubino Con La schiena Scoperta E questo gioco Di lacci Che si intrecciano In maniera differente La foto vi può aiutare Meglio che le mie parole Comunque Vi dico solo che Indossato Fa una scena Incredibile È un vestito Molto audace Sexy e prorompente Ecco perché l'ho messo Ho detto Oh bello E l'ho tolto Però devo dire Che se andate in discoteca O avete una serata Un po' speciale Anche romantica È un vestito È vero Un tocco Un pochino più Ammiccante Però devo dire Che ha delle linee Un colore Tale per cui Rimane anche Abbastanza portabile Soprattutto qualora Non abbiate Un seno Molto prosperoso Perché Questi triangoli Si appoggiano proprio Sul seno Lasciando poi Immediatamente dopo Stile e costume La schiena nuda Quindi diciamo che È abbastanza Come lo trovi? Bello A parte bello È un po' Sexy Sexy Con la CS Mi raccomando Comunque Questo è l'altro vestito I dress girl Anche in questo caso Dove dire Che il materiale Ottimo Bellissimo 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 Da sera Prorompente Alla basic instinct Ultimo pezzo Di questo video All delle cose Di agosto Battiamo un'asta Questa borsa Di cui Tante di voi Mi hanno chiesto È una borsa Guess Anch'essa Presa con i saldi È gialla Colore molto carino Per l'estate Non avevo nulla Di giallo È anche piena Oh ho ritrovato I Ray-Ban Non li trovo più Che casino Mamma mia Vuoi una cingomina? C'è anche una cingomina? Devo smettere di Sono stressata C'ho la steca in agosto Posso mangiare una cingoma? Insomma Questa è la borsa Di Guess Di cui tanti di voi Mi hanno chiesto Appunto di Guess È una borsa gialla Si può portare Così Va anche sotto braccio Oppure ha una cintura Per essere portata in vita Si aggiunge a questi anelli La sua tracolla Devo dire che è carina Poi il giallo d'estate Da quel non so che Di allegro solare Che piace sempre E ovviamente Vabbè Poi su Guess Le borse Devo dire che Soprattutto quelle per tutti i giorni Sono veramente carine Va bene Quindi termina qua Il video delle cose Di agosto Ringrazio il mio collaboratore Che sta abbandonando la nave Comunque io spero di avervi tenuto Un pizzico di compagnia Vi mando un grosso bacio Vi ringrazio di essere state In mia compagnia E come sempre ci vediamo alla prossima Non scordate Di starmi bene E come sempre ci vediamo alla prossima E come sempre ci vediamo alla prossima E come sempre ci vediamo alla prossima